Se ci vanno? Come mi sono detto Rob Veles? Rob Veles mi sono detto che sono stanco di viaggiare. Siamo arrivando a Nova York, ora siamo arrivati a Mariera. C'è stato a Mariera. Poi arrivavano i occhi a Masturano, brucia la terra. Rob Veles vuoi sapere? Sì, sono Giovanni. La cosa che c'è, è solo come un dolino, che c'è a figliare un patrino. Ah, figliare un patrino. C'è Masturano che brucia la terra. Non lo so come un dolino. Uff, è un dolino. Sì, è un dolino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.